Sì, domani c'è il comitato, mi aspetto fatti e concretezza, quello che i governi devono fare nelle materie di loro competenza. Parliamo di sicurezza, dove la competenza è quasi esclusivamente dello Stato, quindi mi aspetto che domani non ci sarà l'annuncite che poi il vento autunnale porta via, ma ci saranno risposte concrete, il Ministro ci dirà quante unità di forze di Polizia, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza invierà nella nostra città per coadiuvare le nostre donne, i nostri uomini, le forze dell'ordine che in città fanno un lavoro egregio in modo da prevenire episodi di violenza come quelli delle stese, ma non solo, individuare rapidamente i responsabili e quindi questa è la prima risposta concreta e mi aspetto che domani il governo attraverso il Ministro dell'Interno ci dica dei dati, dei numeri, delle persone. Secondo, il Ministro dell'Interno è anche il Ministro dell'Autonomia e delle Finanze Locali. Mi attendo che ci dica che nella manovra finanziaria ci sia l'eliminazione o il forte ridimensionamento delle gabbie normative e dei vincoli finanziari che ci impediscono di garantire servizi ai nostri concittadini e agli abitanti di questa città. A cominciare, visto che parliamo di sicurezza, ma non solo, dell'assunzione di circa 150 poliziotti municipali che potremmo fare sicuramente entro Natale se il governo ci dà il via libera e così tutta un'altra serie di misure di finanza locale. Credo che Salvini, che è una persona che fa politica da tanti anni e molti amministratori soprattutto al nord sono della Lega, sa perfettamente che se ti bloccano le casse e ti ordinano il blocco della spesa, io non vedo come si può innalzare il livello della qualità della vita nelle nostre città. Loro adesso stanno al governo, si proclamano il governo del cambiamento, il cambiamento è una bella parola, se il cambiamento è in positivo, se domani arriveranno fatti e ci sarà concretezza non mancherà la massima cooperazione istituzionale della città di Napoli, del sindaco, della nostra amministrazione e della giunta con l'onore e l'onere di guidare. Se il cambiamento invece sarà solamente propaganda o, peggio ancora, compressione dei diritti delle persone più fragili, l'inistro dell'interno deve sapere che noi stiamo con gli oppressi e non con gli oppressori. Questa è la nostra posizione. Quindi domani andiamo a fare questo incontro nella consapevolezza che è un momento importante perché per la prima volta c'è un incontro ufficiale istituzionale tra la città di Napoli e il ministro dell'interno del governo 5 Stelle Lega.